Carmen Di Pietro e la storia d'amore con Maradona, il piccante dettaglio Carmen Di Pietro è stata insieme a Maradona. Carmen Di Pietro rivela in grande esclusiva la sua storia d'amore con Maradona al settimanale Spy. Fino ad oggi, l'attrice ha cercato di tenere nascosto questo flirt con l'idolo del Napoli per non creare un casino mediatico intorno a lei, anche perché quando è successo era ancora molto giovane. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha così deciso di vuotare il sacco e rivelare i dettagli della relazione che l'ha vista legata a Diego Armando svariati anni fa. . A quanto pare, la donna ha un bellissimo ricordo di quel periodo della sua vita, tanto da ricordarne ogni minimo particolare. . Al nuovo settimanale di Gossip, la Di Pietro svela anche alcuni piccantissimi dettagli di un loro incontro amoroso. . Come sempre, la showgirl ha raccontato il tutto senza peli sulla lingua e senza troppi giri di parole. . . Carmen Di Pietro innamoratissima di Maradona, tutti i particolari della loro storia. . Carmen Di Pietro ha svelato quello che cè stato tra lei e Maradona. . Non l'ho mai detto per non fare scoppiare un casino. . Con Diego ci siamo frequentati per un anno e mezzo. A quanto pare, lei aveva perso letteralmente la testa per il calciatore e lui sembrava ricambiare. . . Diego Armando pare anche aver rischiato davvero molto per poter passare un po' di tempo insieme a lei. . 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 Aison d'amore, tra Carmine e Diego che è stata anche una grande intesa intima. Una sera ero andata a trovarlo a Napoli. Stavo facendo il banno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. Posso continuare a lavarti o? Mi ha detto. Così siamo tornati della vasca. Non ci No Lo 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 Grazie a tutti